E nel frattempo che mi guardo come sempre gli abiti da sposa, ragazze questo è un programma fatto direttamente a Palermo nel negozio Barbara Si che è un negozio spettacolare di abiti da sposa che io fotografo sempre quando passo da lì, che si trova proprio di fronte al massimo. E queste sono delle puntate in cui partecipava Enzo Miccio, secondo me il wedding planner più importante d'Italia. Allora ragazze a che punto sono? Il tavolino è a buon punto, come vedete l'ho già finito, lo tengo un altro pochino fuori, lo faccio asciugare ben bene e poi magari stasera, stanotte lo lascio fuori in modo che non la puzza, ma il forte odore della vernice che già naturalmente è entrato pure a casa purtroppo e appunto rimanga fuori a far evaporare questo forte odore di vernice spray. Quindi ragazze il tavolino è finito e bastata una bomboletta che costa 3 euro e niente, un tavolino se avete mobili vecchi, se avete cosine che volete appunto dove volete rinnovare il bianco perché è sciupato oppure avete una cosa noce che volete sciavare, anche in questa maniera anziché pennello in latta, anche questa è una buona soluzione. Ok ragazze io vi saluto, vi ho tenuto qualche minuto di compagnia e come al solito ci vediamo domani. Ciao!